Errore materiale di delibera giuntale richiesta alla rettifica da parte del vice sindaco del comune di Agropoli Elvira Serra. La delibera in oggetto riguardava l'approvazione a favore del nosocomio vallese di mantenere la rete cardiologica, infatti lo scorso 25 ottobre 2018 la giunta comunale di Agropoli sosteneva le azioni a salvaguardia e difesa, anche in giudizio, degli interessi del territorio offerente e il bacino di riferimento del presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Come è noto, dichiara la Serra nella delibera, ho espresso voto contrario alla stessa che però non è stato verbalizzato, del resto sottolinea questo mio voto contrario non è altro che una conferma della posizione professionale, sociale e politica da me sempre espressa sul tema. Sarebbe stato perciò assolutamente singolare che potessi votare in modo difforme dal mio pensiero pubblico e noto innanzitutto ai cittadini. Non comprendo, continua la vice sindaco Serra, le ragioni per le quali sinora non si è dato seguito alla mia legittima richiesta e conclude, sono fiduciosa che questa mia richiesta verrà immediatamente accolta, in caso contrario a tutela della mia coscienza dovrò assumere provvedimenti opportuni.